Ciao Cara! Ma va a te, si si, proprio a te, ma va va. Un bari! Se vuoi conquistare la ragazza devi presentarle qualcosa che di sicuro gradirà. Cosa? Io non ho capito proprio niente. Caffè Gioia è l'ingrediente obbligo per un caffè italiano. Voi apro, oi? Caffè Gioia, un caffè ovvero. Caffè Gioia è l'ingrediente obbligo per un caffè italiano. Oh, mio Dio! Caffè Gioia è l'ingrediente obbligo. Caffè Gioia è l'ingrediente obbligo. Caffè Gioia è l'ingrediente obbligo per un caffè italiano. Caffè Gioia è l'ingrediente obbligo per un caffè italiano. E' l'ingrediente obbligo per un caffè italiano. Vai, via! Ok, Espresso. Security! Va, tutto quello che ci sono, supermercato con il cuore, vai! Si dice Espresso, ricordata vino. Ti capisci? Come! Espresso! Espresso, Espresso! Caffè gioia Caffè gioia Un caffè over Ciao sono il dottor Nicola Laccivita Salve io sono il dottor Gino Bucciarelli Ed io sono la dottoressa Rosie Laccivita Lo studio dentistico del dottor Laccivita vi offre più di 70 anni di esperienza in un solo locale Ed un laboratorio privato per seguire meglio i vostri bisogni Che si tratti di estrazioni, cura delle gengive, impianti, dentiere complete o parziali Chiamate per un consulto gratuito Insieme al mio team di professionisti risolverò ogni vostro problema With a history of dentistry in Cuba and over 25 years of experience as a dental surgeon Toronto's Dr. Canals and his team will take care of all your dental needs For your dental health call Dr. Tony Canals today Cuando un juego mundial se encuentra con un carro de talla mundial surge la combinación perfecta en Sudafrica Hunting, apasionado patrocinador del evento che une al mundo a través del deporte La Copa del Mundo 2010 Noi di Newmash Trading ci impegniamo a portare sulle vostre tavole solo il meglio dell'Italia Offrendovi fino a 300 prodotti squisiti dalle marche diverse Ogni prodotto viene scelto individualmente a secondo della qualità e del gusto E li selezioniamo personalmente È solo allora che il prodotto riceverà il sigillo di approvazione Newmash Portarvi il meglio della cucina italiana è il nostro orgoglio È la più grande svendita dell'anno Sono rimasto solo 125 auto dal 2010 Su tanti modelli vi offriamo lo 0% di finanziamento per 72 mesi Troverete sconti fino a 7000 dollari su auto e 10500 dollari su trucks E con ogni acquisto riceverete gratis un bluetooth È la nostra ultima svendita dell'anno Fino al salimento scorte Visitateci da Roy Fash Chevrolet più il GMC Avant e risparmiate Wild Water Kingdom è il più grande parco acquatico del Canada Unitevi a noi sabato 21 agosto per una fantastica festa italiana Potete fare un picnic, ballare all'aperto con della bella musica italiana Perché ci sarà intrattenimento dal vivo E soprattutto tanto divertimento per i bambini e per gli adulti I biglietti costano solo 25 dollari a persona Oppure potete acquistare passes familiari per 4 per soli 80 dollari Visitate il sito web per ulteriori informazioni E ordinando online risparmierebbe Ci aspettiamo! Wow Grazie a tutti